acqua ha messo l'acqua ho messo l'acqua per far cuocere un po' se che ora la prossima sera sarà un po' di tempo altra acqua cos'era? cos'era? dado solubile questo? paprika uh che bello che bello quindi dado e paprika mi dicono che non è paprika ma è un colorante vediamo guardate quanto gente che c'è guarda questi palcetti Luca è sempre ritenuto il capo del mondo ve lo guardano ciao perchè in teoria ci va in teoria ci va le zafferano mi spiace mi spiace abbiamo lo zafferano che hai preso in sardegna mettiamo quello là si è fatto 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 mettiamo lo zafferano che hai preso te tanto l'hai pagato poco non ci penso neanche allora passo la linea al prossimo che finno come passo la luce non ci penso che